Allora, iniziamo la lettura. Sapete tutti che è troppo frizzante, ambientato in questo bar dove si serve dell'acqua, troppo frizzante. E poi è partito tutto. Ah, piccola novità. Pare, pare, che in puntata 6 ci sarà un piccolo cameo di... Di? Roberto Gervaso. No! Grande! Ricongiuta. Quello della P2. È una persona straordinaria.